nel dicembre 1979 silvio guidone un ragazzo di 28 anni di savona morì a bordo del phoenix il piccolo mercantile italiano fondato durante una tempesta nei pressi della corsica la sciagura era venuta precisamente nei pressi dell'isola giraglia nel tratto di mare compreso tra la corsica e livorno silvio lavorava come marinaio all'interno di questo mercantile una preghiera per silvio